Le fasi che avvengono subito dopo che internet si mette di funzionare. Fase 1. Nessuna connessione di rete. Fase 2. Valuti la situazione. Fase 3. Cerchi di rimediare. Fase 4. Aspetti per vedere se il rimedio ha funzionato. Fase 5. Pretendi che sia tutto a posto. E vabbè, tanto posso rimanere senza internet. Non sono mica dipendente. Fase 6. Provi a distrarti in qualche modo. Quindi, premendo quel pulsante, si illumina. Fase 7. Ti arrendi. Non è giusto! Non è giusto perché? Perché? Fase 8. Ti tiri su e chiami l'assistente tecnico. Sono disperato. Fate qualcosa. Fase 9. Ti dicono di fare qualcosa che hai già fatto. Perché mi avete preso, scusate? Fase 10. Internet misteriosamente ritorna a funzionare. Ma come? Come è possibile? Fase 11. Accetti e ritorni alla tua vita di merda di sempre. Fesse 10. Accetti e ritorni alla tua vita di shopperio.